Locali sanzionati e chiusi, segnalate feste private e assembramenti non curanti delle normative anti-covid, stroncata sul nascere una rissa organizzata via chat da diversi minorenni. I controlli serrati del fine settimana eseguiti dalle forze dell'ordine hanno permesso di rilevare diverse situazioni irregolari, sia in ambienti pubblici che privati, a cui sono seguite multe e non solo. Nella serata di sabato i carabinieri sono intervenuti in via degli Olmi. La musica alta dopo il limite orario del coprifuoco ha permesso ad alcuni residenti e cittadini della zona di segnalare l'assembramento che si stava svolgendo all'interno di un garage, nel quale erano presenti circa 15 persone, tutte tra i 22 e i 24 anni, non curanti delle normative anti-covid. Tutti i presenti sono stati multati. Tra loro è stato identificato un ragazzo in possesso di due grammi di hashish e un altro che in passato non aveva fornito le generalità alle forze dell'ordine. Le sanzioni sono scattate non soltanto a Pesaro ma anche a Gabice. La vicinanza con la Romagna e la violazione dello spostamento tra regioni diverse sono costate alcune centinaia di euro a sei residenti di Cattolica, i quali avevano deciso di fare aperitivo nel comune a nord della provincia pesarese. I carabinieri di Gabice hanno agito su diverse situazioni di apericena oltre gli orari consentiti, quindi in questo momento è chiaro che ci vuole la massima attenzione. Dobbiamo ricordarci che vige questo divieto di sconfinamento fra le regioni, quindi è ovvio che in questi pericena sono stati scoperti dei ragazzi non di Gabice, addirittura alcuni di Cattolico, quindi nell'altra regione, che ahimè non hanno assorbato le regole e quindi sono trovati ad essere multati. Sono situazioni che dispiacciono dal punto di vista oggettivo, però è chiaro che siamo in una situazione di grande emergenza, considerato che da oggi appunto siamo di nuovo in fascia arancione, quindi quello che dico sempre ai miei cittadini è di avere ancora molta pazienza, ancora tanta pazienza, perché siamo, come mi capita spesso di dire, siamo all'ultimo miglio. Anche a Pesaro diverse sono state le segnalazioni di irregolarità riscontrate per il verificarsi di assembramenti dentro e fuori dei locali. Nello specifico è stata elevata un'importante sanzione e imposta la chiusura per cinque giorni ad un ristorante di sushi situato in via Ponchielli, nel quale alcune norme, tra cui il corretto distanziamento e il numero massimo di ospiti consentito per ogni tavolata, non sarebbero state fatte rispettare. Sanzioni anche per alcuni locali del lungomare, per i quali però non è scattata la chiusura. Inoltre in questo weekend il lavoro dei carabinieri ha avuto un altro osservato speciale. Si tratta della zona del campus nella quale sono stati effettuati alcuni controlli volti a stroncare sul nascere risse e incontri violenti organizzati via chat da compagnie e gruppi di ragazzi minorenni. Scene che sembrano ricalcare gli episodi che si sono verificati alcune settimane fa in altre grandi città, come per esempio Roma. Le indagini sono tuttora in corso e il grado di allerta delle forze dell'ordine rimane comunque alto.